Quando voi fate la casa, qualsiasi comprei nel 2010. Gli altri due, sono gratis e personavano una scuola posta. Beh, non mi si siano scusa ma se ne vado, non mi mi sono accelgo. Eccolo un attimo. E' l'attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Grazie a tutti. 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 non è stato un paio di fare 7-8 mesi se non si può essere finanziari non è stato un paio non è stato un paio ma non è stato un paio che è stato un paio quando siamo parlati su questo progetto che siamo rinomini e possiamo dire che non è stato un paio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.